E fu così che classe 1993 José Rodríguez, ex Paris Saint-Germain, firma un contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2023 con l'opzione di prolungamento molto probabilmente in caso di salvezze blucerchiati ma vediamo un pochino come questo giocatore poteva adattarsi al modo di Stankovic sappiamo che l'ex Inter utilizza un 3-4-2-1 e in questo caso José Rodríguez potrebbe andare tranquillamente a ricoprire la posizione che molto spesso ha ricoperto Djuric in quanto José è un ala pura diciamo così che comunque può agire anche discretamente bene un po' più accendato sul campo, destra di piede e parteva a piedi invertito il suo limpettaio sarebbe Cabedini quindi un sinistro a piedi invertito dubito fortemente gioca come punta anche se a volte ci ha giocato però il senso del gol per José non è proprio il punto forte farmi sapere qui sotto cosa pensate